Per i Lucani ultima casalinga della regular season dopo la final eight oggi c'è da conquistare un posto per i playoff scudetto 2021 Bagatini ancora per Jonas dando il controllo Jonas palla fuori che giocata sull'asse Bagatini Jonas inizio scintillante per Neto Santos bella palla per Bisiak Bisiak la palla è fuori cerca in avanti Dalcine anticipato da Neto due contro due Neto dalla distanza poi la deviazione sulla traversa di Tiago Perez si è salvata la Sandra Abate Cesaroni ecco lo servito Well dialoga con Isi attenzione Ercolessi palla per Dalcine 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 morbido palla fuori ancora Jonas Bagatini cacca finezza ancora per Jonas di prima intenzione in spaccata Weber Bagatini ancora in orizzontale per Crema carica il mancino lo toglie dall'incroci dei pali Weber Santos Neto ci ripensa ancora Neto dalla distanza si distende Tiago Perez Cercare la via del gol Easy Bisiak palla per Cesaroni ancora Cesaroni da terra Tiago Perez miracoloso un dispendio di energie particolare Cesaroni recupera il pallone a metà campo Cesaroni con il piattone poi Well la palla è fuori Ercolessi Jonas sarà la pressione di Ramon Ercolessi pallone intercettato poi il pallonetto morbido di Ramon palla fuori palla per Santos tiro l'impallato contropiede Fante Sele due contro due Fante Sele Sele di Finte lascia sul posto Reto Fante Sele Fante Sele Fante Sele poi Well decisivo a Weber battuto con un pallone morbido palla in mezzo Easy lotta poi attenzione Kakà cade Easy rimane per terra e c'è attenzione arbitro che ammonisce Easy tocco con la mano vediamo se calcio di rigore o calcio di punizione fischia l'arbitro tiro e c'è la rete di Kakà Dos Santos avanti Lassandro Abate Avellino a Matera Weber carica il destro Weber con il piattone si rifugia in fallo laterale Tiago Perez Neto dalla distanza e questa volta la palla lambisce il palo alla destra di Tiago Perez Neto Weber ancora come quinto di movimento Neto cerca Well lo trova palla in mezzo per Easy Easy palla per André Santos 1 a 1 signor prestito c'è Bebibatera che giocata dei Lucani nuova parità Tiago Perez Bagatini pressione di Well esce bene però Lassandro Abate crema per Dalcin centralmente ancora Dalcin e c'è la rete di Eduardo Dalcin che a 1 e 43 dalla fine riporta avanti Lassandro Abate ritorna Cesaroni quinto di movimento Santos Well palla in mezzo capitano Cesaroni il suo gesto tipico di estultanza per il 2 a 2 del signor prestito CMP riparte Jonas ci prova dalla distanza tiro che non viene gestito bene e arriva il suono della sirena alla tensostruttura e Viale dei Saniti termina con il risultato finale di 2 a 2 tra signor prestito CMP Matera e Sandro Abate Avellino CMP Matera CMP Matera